Quella che stiamo vivendo non è solo una crisi economica, ma è una crisi dell'uomo dove l'etica non trova più posto nella vita pubblica e nella politica, tanto che ci si preoccupa maggiormente degli investimenti nelle banche che delle persone che muoiono di fame. Così Papa Francesco ha la veglia di preghiera dedicata ai movimenti, alle nuove comunità, alle associazioni e alle aggregazioni laicali. L'evento ideato dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione in occasione dell'Anno della Fede ha offerto al Pontefice la possibilità di ribadire che per annunciare il Vangelo sono necessarie due virtù, il coraggio e la pazienza. La comunicazione della fede, quella fede tanto spesso trasmessa in prima battuta dalle mamme e dalle nonne, deve avvenire anzitutto attraverso la testimonianza, la coerenza di vita, ha chiarito Papa Francesco rispondendo a braccio ad alcune domande rivolte dai rappresentanti degli oltre 200.000 fedeli presenti. In questo cammino a proseguito dobbiamo sempre ricordare che Gesù è il nostro leader e che con la preghiera possiamo trovare la forza di affrontare le sfide che ci attendono lungo la strada. Un cristiano dunque deve essere un uomo capace di promuovere la cultura dell'incontro contro la cultura dello scarto tanto diffusa nelle nostre società e deve saper sempre rispondere al male con il bene, anche fino al martirio. E la Chiesa, ha aggiunto Papa Francesco, deve uscire da se stessa per raggiungere le periferie esistenziali, non deve rimanere chiusa ma deve essere una Chiesa povera per i poveri. Noi non possiamo diventare cristiani inamidati, quelli cristiani troppo educati, che parlano di cose teologiche mentre prendono il tè tranquilli tutti. No, noi dobbiamo diventare cristiani coraggiosi e andare a cercare a quelli che proprio sono la carne di Cristo, quelli che sono la carne di Cristo.